Che continui il lavoro perché c'è bisogno di tante famiglie, credo che oggi è ancora più urgente perché è vero che oggi per gli immigrati c'è il problema del lavoro, della casa eccetera, ma c'è il problema del lavoro anche per gli italiani e soprattutto per i giovani, allora che alcuni giovani tirino fuori la loro generosità e anche la loro inventiva nel creare posti di lavoro e che meritano di essere aiutati in questo, credo che sia più che giusto e positivo. Gli auguri sono quelli ovviamente del buon compleanno ma soprattutto di tanti altri anni proficui di lavoro come questi e soprattutto quelli che si possa continuare a lavorare con questo spirito mutualistico e solidaristico che la cooperativa ha avuto in questi anni perché sicuramente diventerà fra le imprese sociali quella di maggior riferimento per i suoi associati ma soprattutto anche per le istituzioni e per il mondo economico dell'impresa riminese. L'augurio è di continuare a crescere con le modalità con cui è sempre cresciuto, per cui non consolidando sempre qualcosa e andando avanti senza porsi l'obiettivo di spaccare il mondo, cioè di continuare la politica che è stata perseguita dalla Costituzione ad oggi perché secondo me è una politica che anche di questi tempi può essere vincente. Io ho già parlato con loro e gli ho fatto una promessa che sicuramente manterrò e non è un augurio perché io voglio fare in modo che loro possano crescere e possano crescere nell'interesse loro e comunque anche nell'interesse dell'indotto che gravita attorno alla cooperativa, la mia azienda in primis. Quindi cercherò, vorrei dire riuscirò, però è una parola abbastanza grande di fargli fare un nuovo tipo di lavoro che esula un attimino da quello che è la raccolta di rifiuti. Quindi cercherò di aprire nuove strade che permetta loro di avere un orizzonte diverso da quello che è l'attuale. Non è una cosa piccola quella che sto dicendo, però ripeto, so quello che dico e quasi certamente potrei dire che riuscirò a farlo. Quindi non è un augurio mio, io li voglio far lavorare di più, ma però lavorando di più loro stiamo bene tutti quanti. Che continui ad essere un soggetto attento alle dinamiche predatoriali ma che non tradisca la propria radice sociale. Credo che questo sia, come per tutte le cooperative sociali, una ricchezza che il nostro territorio non deve disperdere e visto il momento attuale, sia economico che politico, mi sembra che questo sia l'augurio migliore che si può fare perché credo che ce ne sia un bisogno molto alto. Mi sembra che in 15 anni abbia avuto una crescita enorme, insomma, quindi se i prossimi 15 saranno così, ma va via, aiuto, chissà cosa viene fuori. 15 anni sembrano non molti per la storia di un'azienda, ma per una copertura sociale 15 anni sono molti e soprattutto è importante vedere come questi 15 anni siano serviti e abbiano creato, aveva dato la possibilità alla formica, come ad altre cooperative, Olmo e credo che sia in un percorso analogo, modo di crescere, crescere davvero sia in termini di occupazione che in termini di volumi di affari e quindi di consolidarsi e di diventare punti di riferimento su un territorio. Che cosa posso augurare? Quello che auguro a Olmo, altri 15 anni come i primi 15. Quello che posso augurare loro sicuramente è di continuare su una strada positiva in termini economici e sociali, cioè di riuscire a resistere a tutto questo qui e di riuscire ad andare avanti positivamente, quello che ci auguriamo comunque tutti, lo auguro a loro come lo auguro anche a noi, insomma, di riuscire a farcela, perché poi ogni giorno è una scommessa, insomma, quindi viviamo in realtà noi che è questa, insomma. L'impegno che io vorrei dirgli è quello che a questo punto di essere anche in modo particolare, lo dico in questo caso a Pietro, di essere motore trenante affinché anche le centrali cooperative il più presto possibile vengono fusiche in un'unica centrale perché nei momenti di crisi, in momenti così difficoltosi è inutile dividersi perché il lavoro, il mondo cooperativo, il lavoro all'interno del mondo cooperativo è importantissimo e oggi più che mai l'unione fa la forza. L'augurio è senz'altro che riescono ad andare avanti perché come si sa la vita delle cooperative sociali non è sempre facile, che riescono ad andare avanti mantenendo i valori e gli obiettivi iniziali, dare lavoro, prospettive lavorative non assistenziali, credo che sia salvaguardare la dignità delle persone e permettere alle persone e alle loro famiglie di vivere attraverso il lavoro. L'augurio quindi è che riescono ad andare avanti e lo facciano tenendo presente appunto i valori costitutivi iniziali che sono i valori della solidarietà. Credo che in una città nella quale spesso si parla di cicale che cantano e si divertono la presenza di formiche che lavorano per la solidarietà sia quanto mai importante. Sono molto contenta che una cooperativa che era nata forse un po' così diciamo in maniera sperimentale sia arrivata a un raggiungimento di un quindicesimo anno di attività. Mi auguro che continuano per altri quindici anni e anche oltre nella stessa maniera di oggi, cioè in maniera sprintosa diciamo. Rivolgo alla formica gli auguri che dopo questi quindici anni ci siano altri cinquanta di successo ancora maggiore. Io ho un augurio utilitaristico per noi e per la formica. Noi quest'anno ahimè metteremo di nuovo in gara i servizi di raccolta dei rifiuti per avere appunto partner per i prossimi anni e quindi il primo augurio che faccio alla formica è di rivingere la gara come ha fatto tre anni fa in modo tale da continuare a operare sul territorio in cui sostanzialmente è cresciuta e dare continuità di lavoro a del personale che col tempo è diventato anche più professionalizzato e più utile per tutta la città. Faccio gli auguri per questo importante avvenimento del compleanno dei quindici anni della formica e auguro ottimi e grandi obiettivi per i prossimi quindici anni. Io spero, sono anche convinto, però cercherò comunque anche per il ruolo che ho di far sì che questo avvenga. Io spero che chi fa parte della cooperativa in questo momento mantenga quello spirito, mantenga lo spirito che gli ha fatti diventare grandi, non da un punto di vista numerico, non solo da un punto di vista numerico, ma mantenga quello spirito di fondo perché se riuscirà a mantenere quello spirito di fondo riuscirà a essere intanto a mantenersi nel tempo fresca e soprattutto nel mercato del lavoro, ma riuscirà a essere anche un segno di cui questa città, questa provincia ha un disperato bisogno, questo segno di città santa che abbiamo bisogno tutti quanti di costruire. Se verrà meno a questo fondamento verrà meno perché sono convinto anche la parte economica, ma io sono convinto anche, sono sicuro che questo fondamento non verrà meno anche perché le persone, l'intorno che c'è, l'intorno appunto della cooperativa, permetterà loro di rimanere saldi in queste basi, in queste radici. Intanto gli auguro almeno altri 15 anni di gloriosa storia come sono, penso, stati importanti e belli questi anni. L'augurio principale è che riesca a mantenere negli anni un aspetto molto grosso sui valori, quei valori che dicevo prima, valori di base della cooperazione, la voglia comunque di lavorare insieme, la voglia di mettersi in discussione, la voglia di migliorarsi e poi io spero di avergli insegnato di cercare di guardare un po' sempre al di là dello steccato, quindi di mettere il cuore oltre il recinto. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!